Ciao a tutti, breve riassunto di Vittorio Alfieri con tutte le cose più importanti da sapere e vi dico subito per inquadrare il personaggio che Alfieri è stato una personalità dal forte sentire, come lui stesso scrive, dall'animo ribelle e irrequieto. E c'è una frase che più di tutti riassume queste sue forti passioni, questo suo ardore nella vita, e cioè Volli, sempre Volli, fortissimamente Volli, che oramai è diventato anche un aforismo molto celebre. Alfieri nacque ad Asti, in Piemonte, nel 1749, da una famiglia nobile e a soli nove anni entrò nell'Accademia Militare di Torino. Vi rimase fino al 1766, ma Alfieri parlerà sempre male dell'educazione ricevuta qui. Una volta uscito dall'Accademia inizia il Grand Tour. Come era usanza dell'epoca, cioè i figli giovani dei nobili viaggiavano per tutta Europa per formarsi, per conoscere il mondo. Quindi anche Alfieri inizia a viaggiare in Francia, in Inghilterra, in Olanda, in Austria, e rientrato a Torino però inizia a dedicarsi allo studio dei classici. Ma c'è un autore che più di tutti lo ispirerà poi nella sua svolta letteraria ed è Plutarco. Inizia così a scrivere e nel 1775 pubblica anche la sua prima tragedia, Antonio e Cleopatra. Alfieri oramai ha 26 anni, però questa svolta letteraria praticamente gli cambierà la vita, perché capisce che la letteratura, lo scrivere, può essere una sorta di cura alla sua inquietudine. Plaga quest'animo ribelle, queste sue forti passioni. Alfieri era piemontese e in Piemonte all'epoca si parlava francese. Così, per migliorare il suo italiano, si spostò in Toscana, per imparare, come scrive lui stesso, a parlare, pensare e sognare in toscano. Cioè in italiano, perché come sapete l'italiano deriva proprio dal volgare toscano. E proprio in Toscana conosce e si innamora della contessa Luisa Stolberg d'Albani, una donna già sposata, addirittura con un non pretendente al trono d'Inghilterra. E Alfieri vi rimarrà legato per tutta la vita a questa donna. Dal 1787 si sposta poi a Parigi insieme alla sua compagna, scoppia la rivoluzione francese nel 1789 e all'inizio Alfieri accoglie anche con entusiasmo questa rivoluzione ispirata dagli ideali di libertà, di uguaglianza. E a tal proposito scrive anche un ode a Parigi sbastigliata. Però nel 1792 inizia il periodo del terrore con Robespierre e quindi lui fugge da Parigi e torna in Italia. Si stabilì definitivamente a Firenze, però i francesi con Napoleone arrivano anche in Italia, arrivano anche in Toscana. E Alfieri fu uno dei pochi intellettuali a identificare, a riconoscere subito Napoleone come un tiranno, come un conquistatore e non come altri che invece all'inizio lo vedevano come una sorta di liberatore. Alfieri però morì a Firenze nel 1803 a soli 54 anni e fu sepolto nella chiesa di Santa Croce proprio a Firenze, la stessa in cui sono sepolti altri personaggi illustri come Galileo, Michelangelo e più tardi anche Foscolo. Piccola curiosità finale, il suo monumento funebre fu realizzato dal grandissimo scultore Canova. Passiamo alle opere. Alfieri ha scritto moltissimo, tragedie, commedie, opere politiche, poesie e poi la sua opera autobiografica, Vita. Le tragedie sono 19 e tra queste quella più importante e conosciuta è sicuramente il Saul del 1782. Si narrano le ultime 24 ore di vita del re di Israele Saul, che era impegnato nella guerra contro i Filistei. La narrazione è improntata soprattutto su questo conflitto interiore del re, perché non si sente più amato da Dio, non si sente più il prescelto da Dio. Lo era magari da giovane, però adesso è vecchio e teme che Dio oramai gli preferisse David, cioè suo genero. David però gli è fedele e in alcuni momenti Saul sente questa fedeltà, però ha sempre questo conflitto in cui si sente appunto minacciato. Questa è anche l'unica tragedia ispirata a vicende bibliche. Altre tragedie invece trattano argomenti della mitologia greca, della storia romana e medievale e tra queste possiamo ricordare Mirra, Antonio e Clopatra. Comunque qui trovate tutte le 19 le tragedie. Tra le opere politiche abbiamo due trattati e il miso gallo. Nella tirannide Alfieri esprime le sue idee di libertà, di uguaglianza e contrappone la repubblica romana contro l'assolutismo, che era ancora molto diffuso nel Settecento. Del principe e delle lettere invece sono tre libri e trattano il difficile rapporto tra gli intellettuali e il potere e si scaglia anche contro il mecenatismo, perché questi intellettuali praticamente devono inchinarsi al volere del potere, rinunciando quindi alla propria libertà. Il miso gallo invece è una violenta satira contro la Francia e contro la rivoluzione francese per le conseguenze che ha avuto. Infatti la parola miso gallo è composta da miso, che significa odio, e gallo riferito appunto ai francesi. Abbiamo poi quattro commedie di argomento politico, due di argomento sociale. Le rime iniziate nel 1789, però l'ultima edizione è datata a 1804, quindi uscita postuma dopo la morte, e contano più di 300 poesie. Ci sono soprattutto sonetti e sono a tema autobiografico, un tema ricorrente proprio all'amore per la contessa d'Albani. L'ultima sua opera è Vita. Il titolo completo è Vita di Vittorio Alfieri da Asti, scritta da esso. Anche quest'opera è uscita postuma ed è un'autobiografia romanzata, in cui l'autore riesamina se stesso e la sua vita con ironia. Tutte queste opere hanno uno stile e un contenuto illustre e elevato, soprattutto per quanto riguarda le tragedie. Il linguaggio quindi è solenne, enfatico, e i versi sono in decasillabi, con molte figure retoriche come iperbati, chiasmi e inversioni. Per quanto riguarda il pensiero, come avrete già capito, Alfieri è assolutamente contro ogni forma di tirannide, di dispotismo, invece è favorevole a ideali di libertà, di uguaglianza, e questi sono proprio ideali dell'illuminismo. Alfieri infatti aveva letto Rousseau, Montesquieu, Voltaire, però ci sono delle differenze rispetto a questi illuministi. Infatti Alfieri non esalta la ragione e non vede quell'ottimismo nelle scienze e nel progresso scientifico. Invece esalta la libertà individuale, quella personalità, quell'animo dal forte sentire, che lo porta però a ribellarsi, a scontrarsi contro ogni forma di tirannia e di potere. E questo scontro porta l'eroe ribelle, alla sconfitta, alla solitudine, persino al suicidio, e questi saranno temi contenuti propri del romanticismo. Per cui possiamo dire che Alfieri si trova proprio tra illuminismo e romanticismo.